Salve ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video Finalmente siamo tornati sulla nuovissima Nuovissima Sulla serie di Minecraft Vanilla E come ho promesso ragazzi in questo episodio Andremo a costruire la nostra bellissima farm Allora innanzitutto mi scuso ragazzuoli per l'assenza che ho avuto Ma dovevo andare a scuola e fare tante altre cose Perché come ben sapete non guadagnare i soldi su youtube Quindi lo faccio gratuitamente E niente allora praticamente Oggi la mia intenzione era quella di costruire una bellissima farm Che sarà qua Ora non so ancora come la farò Però comunque decideremo in questo episodio Ora avevo in mente di fare tipo qua Tutto attorno una bellissima farm piccola E qua tipo un piccolo edificio All'interno Dove praticamente ci metterò dentro Tutte le robe Tutte le nostre bellissime cosette Se mi state chiedendo dov'è Ale Non lo so ragazzi Perché Boh è morto Comunque Quanti Oh no c'è un creeper Oh No ecco bravo Muori Allora Inizieremo praticamente costruendo La nostra bellissima farmettina Niente allora iniziamo subito Sembra di essere tipo in creative Ecco ora non più Mi sembra una crafting table qua fuori Tipo qua Così Dovrei farla qui Quindi inizio così Perfetto E continuo Ora dobbiamo fare tutto sta roba Comunque taglierò tutte le parti Importanti Perché comunque Non credo che mi interessino queste parti Dove faccio Tutte ste cose Ok E Continuiamo qua così Però penserò a qualcosa Non copierò tra l'altro la serie hardcore Quindi non preoccupatevi Perché non è nei miei piani Ora Conocemo con questo il genere Dopo Ci penseremo per bene A togliere Tutta la roba E farla per bene Però Questa è una cosa provvisoria Quindi andiamo qua così Perfetto E qua ci mettiamo un'altra terra Copriamo Così Qua Questo spazio dovrebbe essere Sufficiente Poi qua ci farò Attorno Un bel Un Piccolo Fiumicino Ora Fiumicino Un'esagerazione Bro Avete capito Ora però mi è sorto un problema Dove Prendo l'acqua E questo si che è un bel problema Perché non so dove andare a prendere l'acqua Forse lì Facciamo come nella serie hardcore Che Ci danno Ci da l'acqua infinita Praticamente no Poi Penseremo a fare anche un bel pozzetto Dove Avremo L'acqua infinita Diciamo Cioè qua stanno tutto Bene Vediamo Secondo i piani Ora mi sa che bisogna andare a dormire Però Intanto continuo qua Allora Vediamo se Riesco a farmi In che si faceva No Aspettate Così No non così Ecco così Ok però Ora c'è un problema Dove prendo i Semi Non so se qua ce li ho Non ce li ho Perfetto Questo è un bel problema Come ci sono i monstri Scusatemi Oh cazzo Qua Non voglio morire di nuovo Ora dormiamo qua Ecco perfetto appunto Ma scusate Ma dove dovrei dormire Se io non posso dormire qua in casa Boh Non posso dormire da nessuna parte Si è già fatto il giorno Raga Sono stato su instagram Da aspettare il giorno Ma si è già fatto il giorno Quindi perfetto Allora Io devo prendere i semi Ora non so dove prenderli Vediamo qua Forse Ancora Stai morendo Vuoi continuare Ecco bravo Muore E mi serve anche la sabbia Perché Con la sabbia Andremo a fare il vetro Per Questa roba che mi ha fatto Con la sabbia andremo a fare il vetro Tipo che ci porta su Ora lì c'è la sabbia Quindi questo è perfetto Però Dove iniziare a prendere subito i semi Perché non ne ho E questo è un bel problema Comunque mi sto tagliando le parti Raga Meno interessante Comunque Non è che c'è tanto Da vedere A me Cercando i semi Non è che Sia una cosa Molto molto divertente Cioè Quindi ho raccolti i 16 Ma Non ci basteranno mai Ma mai nella vita proprio 16 Ok Allora Di club date Raga Siamo a 49 semi Ci ho migliorato veramente un botto E sono dovuto andare là Blablabla In giro Qua ancora non l'ho tolto Però Comunque Diciamo che 49 Dovrebbero essere sufficienti Non lo so Ora proviamo Vediamo Speriamo comunque che Bastino Perché Sennò Veramente Sclero Allora Perché mi sono rotto Veramente i coglioni Raga di andare A trovare i semi In giro E Per l'appunto Non bastano Non bastano ancora Ma poi tra l'altro Ragazzi Non abbiamo Ne materiali Niente Ci abbiamo solo 4 diamanti Un episodio Dovremmo di nuovo Andare In Ah no è qua C'è qua Ok perfetto Ora ci serve tanta sabbia E non so neanche dove prenderla Tutta sta sabbia Perché Raga Tanta sabbia Non so dove potremmo prenderla C'è un po' del carbone Lo devo prenderlo subito Perché No Ovviamente Non avremmo più Ehm Cose con cui Cuocere la roba Ok ragazzi Allora Piccolo update Allora Sono riuscito A ricavare Gli ultimi semi E Ehm Ho anche fatto Ehm Cioè Si è cotta Tutta la sabbia Quindi Ora non è tutta Che c'è ne di più Però No Cosa ho fatto Però Diciamo che Dovevo Un attimo Sbrigarmi Perché Sennò qua Non finivamo mai più Ehm Allora Io direi di fare una cosa Del genere Tipo Così Vai E iniziamo Subito La nostra Bellissima costruzione Sarà alta Però Diciamo che Non vorrei andare a prendere Altra Altra roba Quindi dovrebbe bastare così Ora Espandiamo qua Ci facciamo tipo una bella Tipo terrazza Ehm Dove ci metteremo tutte Le nostre ceste Eccetera Quindi Senza morire Ovviamente Ok Così Perfetto Qua ci sarà una bella Scala Ehm Che ci porterà In alto La chiudiamo Però devo prendere Altra sabbia Comunque Raga Vi taglierò Tutti questi pezzi Inutili Perché Non è divertente Per voi vedere E ci vediamo appena Ho un po' di sabbia Ok Sono ritornato Qua Allora Continuiamo Ma Mi devo fare le scale Ora Non so come Farò Queste piccole scale No Io non ci ho sbatti Di andare a prenderlo ancora Ok ragazzi Allora Per Questo episodio Lo lascio così Perché veramente Sono stanco Andrò a prendere roba Ehm Ci farò Delle ceste Ok ora ci metto Delle ceste Vediamo Dove fare le scale Quindi andiamo subito Per le scale No raga Guarda Dobbiamo Per forza andare in miniera La prossima volta Perché se no Comodiamo Ehm Le scale Dovrebbero essere Così Ecco Perfetto Qua copriamo Dovremmo coprire E Sarà Perfetto Qua copriamo E Dovrà essere Qualcosa del genere Poi ci metteremo Ovviamente subito Ehm Una ceste Allora qua mi sa Che devo contrarre Perché se no Muoio E finiamo qua Perché se no Ehm Veramente esce un video Fuori Di 30 minuti Resto gestendo Da tipo Un'ora e mezza Quindi niente Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi Lasciate like Un attimo Che esplode questo E noi ci rivediamo Ad un prossimo video Bella ragazzuoli Bello Un'ora e mezza Un'ora e mezza Un'ora e mezza Un'ora e mezza